Sport sotto le stelle. Torna a Teramo la manifestazione più attesa e partecipata dell'anno. Sarà questa la dodicesima edizione, ma la prima dopo l'interruzione causata dalla pandemia. Sabato 18 settembre, dalle 18 in poi, tutto il centro storico si animerà con ogni tipo di attività sportiva, grazie all'adesione massiccia delle associazioni locali e con tanti altri eventi culturali e musicali a latere. In Piazza Martiri sarà presente anche un camper dell'ASL per chiunque voglia vaccinarsi o fare un tampone. Siamo molto orgogliosi e contenti di aver potuto organizzare quest'anno la dodicesima edizione di Sport sotto le stelle. È stato un lungo lavoro durante questi mesi, un lavoro di raccordo con tutte le associazioni e le federazioni, che ringraziamo perché nonostante il periodo che stiamo vivendo, non hanno esitato a mettere in campo la loro disponibilità e la loro attività per darci la possibilità, insieme a loro, di organizzare questa dodicesima edizione. Siamo riusciti a raggiungere i numeri degli scorsi anni, segno che nonostante la pandemia c'è voglia comunque di ricominciare, di ripartire. Ovviamente tutto questo è in sicurezza. Avremo numerosi gazebo dislocati su tutto il corso principale, il corso San Giorgio, ma anche il corso dei Michetti, con numerose anche attività come il ludobus per i bambini, poi tutte le attività di esibizione su Piazza Martiri e anche di prove di attività per i ragazzi e i bambini che vorranno provare le singole attività che sono previste. Ovviamente per la prova degli sport è necessario esibire all'interno di ogni stand il Green Pass o il tampone. Ci saranno anche i tamponi per i ragazzi che non hanno avuto la possibilità di farlo precedentemente e saranno a disposizione i tamponi gratuiti per poter provare i ragazzi che non hanno con loro. Sport sotto le stelle rappresenta la ripartenza della socialità e del vivere la propria città. Si prevede dunque una grande partecipazione di persone. Il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, precisa però che per quella serata c'è l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto. Ne saranno distribuite gratuitamente oltre 50.000. Ci muoveremo, come in tutte le manifestazioni di Teramo Natura Indomita, nella massima sicurezza e nel rispetto delle regole, anche per mandare un messaggio importante che ovviamente è legato alla ripartenza, ripartenza che passa dalla conferma anche quest'anno così difficile di questa manifestazione che ormai appartiene alla storia della nostra città e un'istituzione della nostra città questo evento che ancora una volta ci consente di coinvolgere veramente tutti tanti nel nome del rilancio dello sport, della valorizzazione di tutti gli sport, della socialità, della solidarietà e della coesione sociale che in questo momento dobbiamo rimarcare più che mai. La dodicesima manifestazione di sport sotto le stelle è dedicata a Mimmo Sciamanna, grande sportivo teramano, organizzatore da sempre dell'evento, venuto a mancare troppo presto. La serata si svolgerà nel suo ricordo.